amici di fustella rotante ma soprattutto amiche di fustella rotante qui è il vostro fox che vi parla e che vi presenterà la prima delle novità che vi avevamo annunciato che sarebbero arrivate a partire dal mese di settembre si tratta di una serie di video che sarà dedicata alle edizioni digitali di alcuni giochi da tavolo che sono uscite nel corso degli ultimi anni per iniziare partiremo come potete vedere da istanbul gioco del 2014 di rudiger dorne uscito per mano di pegasus pill nell'edizione internazionale portato in italia dalla fu asterion adesso asmodè il gioco ha visto uscire nel corso degli anni due espansioni e un'edizione big box nel corso del 2018 ma non le tratterò in questo video perché nell'edizione digitale che a cura di akram digital è presente soltanto la versione base del gioco il gioco è possibile acquistarlo sulla piattaforma steam oppure sul play store per quanto riguarda i dispositivi android o su app store per quanto riguarda i dispositivi apple andiamo subito a vedere che cosa ci permette di fare l'edizione digitale intanto parto dicendo che non è presente purtroppo la lingua italiana l'edizione digitale è soltanto in lingua inglese non c'è tantissimo testo in gioco ma se non conoscete il gioco da tavolo potreste essere un po in difficoltà se non siete proprio anglofoni la terminologia è abbastanza semplice l'iconografia è molto chiara tuttavia quella della mancanza dell'italiano purtroppo è una mancanza appunto abbastanza importante secondo me è possibile tramite il pannello delle opzioni andare regolare alcune delle impostazioni mettere il gioco in modalità per utenti daltonici far saltare completamente le animazioni dei turni degli avversari e diciamo potenziare in qualche modo il numero di frame per secondo per rendere un po più fluide le animazioni se avete una macchina che ve lo permette su pc non dovreste avere grossi problemi per fare questo è possibile giocare contro l'intelligenza artificiale oppure contro altri giocatori umani online cosa che vi consiglio di fare perché è sicuramente un'esperienza migliore rispetto a quella del del giocare contro il computer come si suol dire andiamo a vedere cosa ci permette di fare quindi clicchiamo su nuova partita come vedete è possibile scegliere il numero di giocatori e il nome di ognuno il colore e anche la difficoltà dell'intelligenza artificiale io setterò per questa presentazione una ai modalità facile una difficile e una media per darvi per farvi avere anche un'idea delle varie difficoltà è possibile giocare da due a cinque giocatori quindi è possibile aggiungere anche un eventuale quinto giocatore sempre controllato dall'intelligenza artificiale inoltre è possibile giocare in più giocatori umani sulla stessa macchina quindi potete giocare anche con i vostri amici magari su tablet con un unico dispositivo andiamo avanti per iniziare la partita il gioco l'applicazione ci mette a scelta la possibilità di avere la disposizione delle tessere che vanno a formare poi il tabellone esattamente come avviene per la versione fisica quindi ci saranno diverse configurazioni quella percorsi brevi percorsi lunghi quella in cui le tessere sono messe in ordine numerico nell'edizione fisica le tessere sono numerate nell'edizione digitale non è presente il numero ma perché le cose vengono fatte tutte in automatico dall'applicazione però questa è la configurazione con le tessere in ordine oppure quella che preferisco che è la disposizione randomica delle tessere con solo alcuni paletti che vengono sempre rispettati dal regolamento la fontana deve essere in una delle quattro tessere centrali e la casa del tè e il mercato nero devono essere non sulla stessa riga né sulla stessa colonna ma soprattutto ad almeno tre tessere di distanza in questo caso sono quattro è possibile randomizzare ulteriormente quindi cliccando su randomize potete dare a modificare a far creare diciamo nuove disposizioni randomiche inoltre è possibile giocare con la variante degli assistenti neutrali che aggiunge un po di pepe dopo le prime partite aggiunge anche un po più di strategia iniziamo la partita e vediamo come si gioca e cosa ci ha messo a disposizione akram digital in questa edizione digitale giocherò una partita completa ma non vedrete una partita completa giocherò qualche turno per darvi modo di vedere come funziona l'applicazione poi passerò direttamente agli ultimi turni e al commento finale per cercare di mantenere il video su una durata accettabile come avete visto il giocatore giallo ha già mosso le mosse dei giocatori dell'intelligenza artificiale sono molto rapide e veloce a volte non si riesce neanche a capire esattamente cosa hanno fatto in aiuto ci viene la funzione replay cliccando sul tasto replay è possibile vedere rivedere tutte le azioni fatte dai nostri avversari fino a che non sarà di nuovo il nostro turno io do per scontato che conosciate già il gioco da tavolo quindi non starò tanto ad addentrarmi nelle meccaniche nelle possibilità che vengono offerte dirò soltanto che nel proprio turno si sposterà il nostro mercante di una o due tessere seguendo ad ogni passo un percorso che sia in verticale o in orizzontale quindi non ci possiamo spostare in diagonale per esempio parto subito dall'ufficio postale che permette di prendere le risorse evidenziate come vedete cliccando su una tessera l'applicazione vi fa vedere cosa succede nell'ufficio postale in particolare vengono prese dal giocatore che esegue l'azione le risorse evidenziate il giocatore successivo prenderà quelle il giocatore successivo ad eseguire l'azione ovviamente prenderà quelle successive poi ancora 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 fino a ciclare e tornare all'inizio quindi lasciamo un assistente perché come saprete per fare l'azione è necessario o lasciare o raccogliere uno dei nostri assistenti dalla tessera in cui terminiamo il movimento e clicchiamo su take per prendere le risorse che vengono aggiunte al nostro carretto qua a destra a destra potete vedere sempre a sinistra scusate a sinistra potete vedere sempre tutte le informazioni pubbliche di tutti i giocatori per avere sempre la situazione sotto controllo come vedete è presente la pedina del contrabbandiere quando eseguite l'azione in una tessera su cui è presente una di queste pedine neutrali che fanno parte del gioco è possibile fare anche l'incontro con queste nello specifico il contrabbandiere permette di prendere una merce qualsiasi a scelta e scambiarla con un'altra in nostro possesso oppure pagarla due monete andiamo a pagarla e andiamo avanti completiamo il turno vi faccio vedere anche che è possibile fino a che non viene finalizzato il turno premendo conferma tornare indietro e diciamo se uno ha dei ripensamenti tornare indietro e fare anche una mossa diversa questo è possibile fin tanto non vengono scoperti o usati diciamo degli elementi che prevedono o la pesca di una carta o il lancio di dadi ovviamente non è possibile tornare indietro per visto che carta avremmo pescato oppure il risultato del lancio di dadi andiamo a ripetere l'azione che ho appena fatto in maniera molto molto rapida l'incontro con il contrabbandiere pago le mie due monete e confermo il contrabbandiere come nel gioco base viene spostato su un'altra tessera nel gioco fisico viene spostato su un'altra tessera nel gioco fisico si lanciano i due dadi che sono presenti nella confezione di gioco e la pedina con cui abbiamo effettuato l'incontro si sposta sulla tessera corrispondente a quel numero nell'edizione digitale come avete visto tutto viene fatto in background dall'applicazione quindi viene spostata in una tessera random immagino che in background venga effettuato effettivamente un lancio di dadi avete potuto vedere anche che il turno degli altri giocatori è molto 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 rapido stavo parlando con voi non ho visto cosa ho fatto clicco sul cosa hanno fatto clicco sul tasto replay e possiamo rivedere quello che è successo vi dico che avrei preferito avere come si trova in altre applicazioni un log che mi potesse permettere di andare a rivedere magari anche in forma testuale quello che esattamente hanno fatto gli altri anche perché a volte non è così immediato specialmente alle primissime partite vediamo un'altra tessera vado alla casa del te che è una tessera che la cui azione permette in pratica di scommettere si sceglie un numero da 2 a 12 si lanciano i da 3 a 12 si lanciano i due dadi in questo caso in modo virtuale cliccando sul pulsante roll e se il risultato della somma dei dadi è uguale o superiore al numero che abbiamo scelto prendiamo il numero di monete pari a quello che abbiamo scelto altrimenti vengono prese due monete cosa che viene ben spiegata in questa parte lanciamo il dado ben 12 quindi ricevo le 8 monete che avevo scelto diciamo di scommettere turno degli altri giocatori il gioco ecco come vedete è molto 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 veloce lo scopo per chi non lo sapesse è quello di riuscire a raccogliere prima degli altri giocatori i 5 rubini che servono per vincere la partita un po la corsa ai rubini i rubini possono essere acquisiti su alcune tessere specifiche che hanno in basso a sinistra l'icona corrispondente che diciamo fa capire che su quella tessera è possibile acquisire rubini muoviamoci ancora direi che torno all'ufficio postale come vedete è tutto molto veloce torno un attimo indietro per spiegarvi che qualora terminate il movimento con il vostro mercante su una tessera sulla quale è presente il mercante di un altro giocatore dovrete per poter attivare l'azione della tessera pagare a quel giocatore o a quei giocatori se è presente più di uno due monete per ognuno quindi paghiamo il giocatore blu e prendiamo le risorse dal ufficio postale le risorse vengono aggiunte automaticamente al nostro carretto inizialmente si parte con due spazi per ogni tipo di risorsa attraverso la tessera del costruttore di carretti è possibile pagando sette monete come vediamo eseguire un upgrade e aumentare di uno spazio la capacità del nostro carretto per tutte le merci mi sposto verso la grande moschea come vedete il gioco evidenzia le tessere sulle quali vi potete spostare in questo caso sono queste qua mi sposto sulla moschea la moschea è una di quelle tessere che permettono di acquisire rubini eseguendo l'azione è possibile prendere una delle tessere moschea che daranno dei bonus permanenti nel corso della partita una cosa molto interessante che su tutte le tessere in alto cliccando su tutte le tessere in alto c'è il pulsante informazioni che vi dà informazioni appunto sulla tessera cliccando su more si apre la pagina della guida che entra ancora più nello specifico come ho detto all'inizio però purtroppo è tutto in lingua inglese e questo potrebbe creare difficoltà a qualcuno eseguo l'azione comprando acquisendo la tessera gialla per acquisire le tessere necessario avere sul proprio carretto il numero di merci del colore indicato e pagarne una scartarne una acquisisco la tessera gialla vedete che vediamo qua le tessere moschea che abbiamo acquisito sia noi che gli altri giocatori sono evidenziate in qualche modo questa tessera nello specifico mi permette prima o dopo il mio turno pagando due monete di recuperare uno degli assistenti che ho lasciato in giro per le strade di istanbul andiamo un po' avanti con il turno degli altri giocatori vi voglio far vedere almeno un'altra cosa prima di passare poi alla fase finale della partita che è la stazione di polizia perché nella stazione di polizia all'inizio della partita viene messa una pedina per ogni giocatore che rappresenta un po' un familiare eseguendo l'azione sulla stazione di polizia quando vi è presente il nostro familiare è possibile inviare questo familiare in una qualsiasi delle tessere sul tabellone ed eseguire la relativa azione senza dover pagare alcunché agli eventuali mercanti che vi sono presenti faccio vedere subito mandando il mio familiare dal costruttore di carretti dove è presente il mercante verde come vedete nessun prompt è apparso che mi chiedeva di pagare acquisto un upgrade per il carretto e come vedete qua a sinistra viene incrementato lo spazio a vostra disposizione confermiamo andiamo avanti per un altro turno aspettiamo le mosse degli altri giocatori come vi ho detto e come potete vedere sono tutte molto molto veloce una partita all'edizione digitale contro l'intelligenza artificiale generalmente dura una ventina di minuti mezz'ora al massimo se proprio vi mettete a ragionare tanto sui movimenti da fare vado al magazzino ce ne sono tre per la frutta che è la merce gialla le spezie che sono la merce verde e le stoffe che sono la merce rossa mentre invece i gioielli che sono le merci blu possono essere acquisite solo in altro modo quando facciamo l'azione di un magazzino prendiamo automaticamente senza pagare nulla tutte le merci di quel tipo che il nostro carretto può contenere come vedete c'è il prompt per un incontro come ho detto prima cliccando sul sul pulsante i potete vedere cosa succede nello specifico in questo caso è presente il familiare di un giocatore avversario e io posso rimandarlo alla stazione di polizia quindi farlo arrestare e ricevere come taglia tre monete oppure una carta bonus presa dalla pila che nell'edizione digitale non si vede nell'edizione fisica viene messa accanto al tabellone di gioco scelgo di prendere una carta che viene aggiunta alla mia mano qua potete vedere quante carte avete cliccando sul pulsante bonus cards potete vedere le carte che avete a disposizione e la pila degli scarti nella tessera caravan serraglio perché usando l'azione del caravan serraglio sarà possibile anche prendere la carta scartata in cima alla pila degli scarti anche se è stata scartata da altri giocatori le carte bonus possono essere usate in qualsiasi momento durante il proprio turno e all'inizio del del turno il gioco come vi farò vedere tra qualche secondo appena terminato il turno degli avversari vi mostrerà la possibilità di usarle quando sarà il caso per esempio tornando sulla grande moschea e recuperando l'assistente che c'era vedete ho un solo gioiello in questo momento sul carretto ma in basso l'applicazione mi ricorda che posso prendere una merce usando la carta bonus che ho preso prima scelgo di prendere un gioiello e avendone due posso prendere la tessera moschea blu che come vedete dall'icona aggiunge un assistente al pool degli assistenti a mia disposizione portandolo da 4 a 5 inoltre avendo acquisito entrambe le tessere della stessa tessera moschea quindi la blu e la gialla acquisisco anche uno dei rubini andiamo avanti vediamo anche il turno degli altri giocatori sono stato il primo tra l'altro ad acquisire un rubino vi dico già no non sono stato il primo il giallo mi ha anticipato vi dico già da ora che l'intelligenza artificiale non è proprio il massimo è migliore rispetto a molte altre viste in altri giochi ma diciamo che se conoscete bene il gioco se avete più di una decina di partita di partite alle spalle vi sarà piuttosto facile vincere e vorrei farvi vedere come funziona il mercato e quindi mi sposterò sul mercato grande anche se in questo momento non è proprio l'azione più efficiente al mercato si possono vendere monete e vendere merci per prendere monete in automatico vengono vendute tutte le merci che è possibile vendere per soddisfare l'ordine al momento visibile sulla tessera è possibile però ovviamente scegliere di venderne di meno noi vendiamo tutte quelle a disposizione prendiamo 12 monete e questo è il funzionamento del mercato abbiamo visto quasi tutto diciamo per quanto riguarda le tessere ne restano da vedere tre due sono il venditore di gemme e il palazzo del sultano che sono due tessere sulle quali possono essere acquisite gemme dal venditore di gemme pagando le monete con un costo crescente man mano che vengano comprate al palazzo del sultano si possono acquisire gemme donando merci al sultano appunto anche qui il costo in merci è crescente man mano che vengono prese l'ultime due tessere in realtà ve le faccio vedere molto velocemente mandando il mio familiare ad eseguire l'azione sono il caravan serraglio che permette di prendere due carte a scelta pescando dal mazzo coperto oppure prendendo la prima dalla pila scoperta faccio vedere prendo la pila la carta che mi da mi darebbe 5 monete una volta usata prendendola appunto dalla pila delle carte scoperte che è comunque sempre consultabile è possibile come vedete scorrere per vederla tutta e una carta dalla pila coperta dopodiché per concludere l'azione è necessario scartare una carta tra tutte quelle che abbiamo in mano poi in questo momento e scarterò questa confermo il turno è rimasta soltanto la tessera fontana da farvi vedere che la tessera iniziale in realtà è rimasto anche il mercato nero molto velocemente cercherò di farvele vedere entrambe dovrebbero bastare due turni tornando alla fontana innanzitutto non si pagano gli eventuali altri mercanti presenti ed è possibile recuperare da qualsiasi parte del tabellone o alcuni assistenti a scelta oppure cliccando su bring all assistance tutti gli assistenti confermiamo il turno velocemente giocano gli altri giocatori e l'intelligenza artificiale l'ultima tessera che resta da descrivere è appunto il mercato nero quindi ci spostiamo al mercato nero al mercato nero è possibile prendere una merce una stoffa una spezia o un una frutta io prenderò una stoffa visto che non ne ho neanche una e poi lanciare entrambi i dadi e prendere tanti gioielli quanti il risultato del dado convertito su questa tabella quindi da 0 a 3 lancio di dadi ho fatto 9 e come vedete viene evidenziato il risultato come vi ho detto prima avendo fatto un lancio di dadi non è possibile tornare indietro quindi non potete ripetere l'azione sperando in un risultato migliore l'incontro con il governatore ultimissima cosa funziona più o meno allo stesso modo del del contrabbandiere che vi ho descritto prima ma qui si prendono carte bonus si pesca una carta dalla pila coperta dopodiché si può decidere di o scartare una delle carte che abbiamo in mano oppure pagare due monete per tenerle tutte confermiamo e mentre giocano gli altri giocatori facciamo un piccolo salto e andiamo verso la fine della partita eccoci quindi nelle fasi finali della partita il turno in cui acquisirò la quinta gemma vado alla stazione di polizia mando il mio familiare dal sultano al suo palazzo gli dono le merci che chiede e acquisisco il quinto rubino il gioco prosegue fino a che tutti i giocatori hanno fatto lo stesso numero di turni il giocatore blu tra l'altro dovrebbe anche lui acquisire il quinto rubino quindi arrivare a una condizione di pareggio che non è frequentissima però può succedere e tra l'altro vincere la partita perché le condizioni spezza pareggio sono queste in quest'ordine quindi prima le monete poi le merci e poi le carte rimaste quindi dopo aver detto che l'intelligenza artificiale non è una grande sfida ho fatto questa magrissima figura c'è da dire però che le prime mosse le ho fatte per farvi vedere com'è il gioco e nonostante questo come vedete nello stesso turno del giocatore blu sono riuscito ad acquisire la quinta il quinto rubino torniamo quindi al menu principale e parliamo un po delle conclusioni mi è piaciuta questa edizione digitale direi di sì molto fluida molto chiara molto semplice anche da giocare giocata online contro altri giocatori umani ovviamente da molta più soddisfazione visto che come vi ho detto l'intelligenza artificiale non è così imbattibile dopo qualche partita con un po di esperienza inizierete a batterla con una certa regolarità la consiglio sì a chi piacciono le edizioni digitali di giochi da tavolo e chi ha adorato come me istanbul nella sua versione fisica siamo arrivati quindi alla conclusione di questo video spero spero di essere riuscito a presentarvi in maniera adeguata a questa edizione digitale di akram digital di istanbul il gioco di rudiger norn edito da pegasus peel e portato in italia da la fu asterion adesso asmodè se volete avere un parere più approfondito da parte nostra potete andare a vedere il video della sedicesima puntata di fustella rotante nella quale abbiamo approfondito diciamo il nostro parere su la versione fisica di questo gioco detto questo siamo arrivati alla fine è tutto non mi resta che salutarvi e dirvi di restare in gioco ciao